Sono scomparsi due ragazzi, uno è il figlio del capitano Rea. Signori, per favore, questa è casa mia! Dicono che è scappata, ma non è vero. Il resto sono passati dieci anni dall'ultimo omicidio. C'entra il mostro. Ho letto da qualche parte, non ricordo dove... Come che la chiamano? Cane Vazzo. All'epoca si parlò di setta satanica, che sui corpi vennero trovati incisi dei simboli a forma di tridenta. Lei ha già infangato il nome di una divisa per l'appariodare la vita. Se sparisce la figlia di un'ex prostituta, non frega un cazzo a nessuno. Tu ci pensi tanto a tua vita. Però se spariscono due ragazzi ricchi... Aiuta! ...perdono tutti la testa. È colpa tua! ... ...